Gamers, bentornati in un nuovo video di Sword Art Online Black Swordman Ce l'avevamo lasciati, uh lì c'è un boss, c'era un boss, dov'è il boss? Boss, eccoti, ciao piccolino E qua, ma scusami, devi targettarmi lui, grazie, mi ha targettato il boss, meno male dai Comunque, benvenuti, bentornati in Sword Art Online Black Swordman E appunto, ce l'avevamo lasciati con l'aver fatto un paio di missioni secondarie Quelle che io reputo se missioni secondarie, ma in realtà non lo so Perché appunto il gioco non è stato ancora rilasciato e io lo sto registrando in anticipo Quindi a quanto uscirà, molto probabilmente, ho usato troppo il tablet E quindi appunto oggi ci ritroviamo nel continuare a giocare e ad andare avanti con la storia Allora, praticamente siamo ancora a livello 13 Adesso togliamo questi due da mezzo, grazie E andiamo a fare altra roba Allora, abbiamo tanta roba da sbloccare, tanta roba da fare Ed è proprio per questo che continueremo a farci i cazzi nostri No, in realtà no Continueremo a non andare avanti con la storia Ok, penso sia finita qui Quindi, ah no, devo fare prima le altre Va bene, quindi è doveroso dover fare prima le altre Che è successo? Le altre quest, immagino Salve piccolino, vieni qui Vieni qui, fatti mangiare tutto No, volevi colpirmi, non ci sei riuscito E diciamo la verità, mamma mia Il problema è che ogni tanto rientrerà il tablet dentro l'inquadratura della webcam Perché è un po' un problema, diciamo che è tutto un bel problema Ed è tutto provvisorio Quindi in realtà non sarà così per sempre Poi vedremo un pochettino come sistemare e aggiustare la situazione Più che altro è per guardare in webcam mentre gioco Anche se non è proprio il massimo Perché appunto non si vede che io stia guardando in webcam Però va bene Allora, è giunto un nuovo coso Qui prendiamo la nostra roba quotidiana Ciao Sachi Poi qui altra roba che mi sa che dobbiamo già sbloccare Oh, ho sbloccato questo Ottimo Qui immagino che siano le cose giornaliere che dobbiamo riscattare Ok, abbiamo fatto le nostre cose Qui dovevamo sbloccare lo sbloccabile Grazie E qui Ok E abbiamo altro E abbiamo tanto altro immagino Ah giusto, qui dobbiamo potenziarci perché siamo saliti di livello Quindi vai Potenziami di tredicesimo livello Dai Qui mi sa che ci sono robe Dammi tutto Perfetto Un'email qui Cos'è? Facciamo finta di averla letta Boh, non lo sappiamo Andiamo a prenderci anche queste cosucce qui Mamma mia Abbiamo quasi finito Abbiamo letteralmente quasi finito di pigliare tutta la roba del primo piano Interessante ed utile Mi sa che dobbiamo farceli per forza queste Purtroppo Non so se perché stiamo a quest'inoltrata O In realtà Io l'avevo vista sempre Ok, perfetto Abbiamo completato questa quest Quindi possiamo andare Verso quella che sarà Molto probabilmente la quest principale E niente Quindi praticamente fa un caldo boia qua Sono indeciso se lasciare o meno Molto probabilmente li lascerò Cioè li toglierò questi pezzi in cui io vado A meno che io non stia parlando Appunto Avere una luce sparata in faccia E eccetera 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 Stare in una stanza chiusa In modo tale che non si senta l'eco Veramente tanto E veramente veramente tanto Oh, abbiamo sbloccato un paio di cose 67 Il numero che ci piace tantissimo Siamo aumentati di livello Signori, ci sta succedendo troppa roba Troppo velocemente Datemi due secondi Porca di quella puttana Ok Perfetto Le gilde le abbiamo sbloccate Non ancora Muy malo Muy malo Noi andiamo qui Per il momento Potenziamo Potenziamento in toscia Ok, abbiamo preso robe Questo kirito versione pasquale Comunque molto bello Amo krasias Ok Io non so neanche il gap massimo Del livello che si può ottenere Però immagino che sia un gap abbastanza alto Poi non lo so Quindi andiamo avanti in realtà Andiamo avanti Abbiamo tanta roba da fare Poco tempo E dobbiamo Se sentite questo rumore di sottofondo Non vi preoccupate È la specie di ventilatore che ho Fai calmo per favore Oh Oh Cos'è? Non ne ho la più palida idea Ma Signore e signori Mi sa Che si va a combattere il boss Questa è la famosissima clip Dove dobbiamo prepararci per il boss Mi dispiace Ma Ahimè Ok Kibau che viene a rompere i coglioni Se fosse per me Talmente dei guai che hai combinato In Sworld Art Online Ti eliminerei Ma uccidere non è consentito Sa che dovevo andare da lui? No Ok si Invece dovevo parlare con Agil Agil L'unico problema di Sworld Art Online È che ci sono troppi 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 dialoghi In qualsiasi gioco Ci sono troppi dialoghi Posso già mettere qualcosa? Ok quindi Immagino che queste siano le nostre Attacque e difesa E possiamo potenziarlo? Immagino di si Siamo arrivati da un gap Posso potenziarlo? Boh Escono cose strane Questo invece cos'è? Boh Andiamo avanti Ah ok quindi praticamente si Ci sta Ah che significa? Carta viola? Perfetto Immagino che Quanti ne ho? Ne ho 88 Ok Ah possiamo fare Quello per 10 E abbiamo anche La versione Più Ah sai che vede che c'è? Ne facciamo 2-3 Viola? Ah yeh Ok ne abbiamo una viola Ma è singolo eh Ok abbiamo un altro chirito Non so chi sia E ci ha dato dei pezzi Immagino che se Piamo doppioni La situazione è sempre la stessa Ok sempre chirito E poi basso Perfetto Qui ci dice sotto Non so se si vede Un altro viola Lifa Ah no alifa Non mi ricordo Non mi ricordo il nome Mannaggia Mannaggia a me Vai asuno Facci 2 addirittura Perfetto Ok Apriamo i forzieri Cosa ci danno i forzieri? Ci danno 100 1000 di questi punti Un po' Abbiamo altri 48 Li faremo a fine puntata Ah possiamo aggiungere adesso Immagino sia uno di che abbiamo droppato Ma prendiamo lui Che è abbastanza forte Ah uno per ogni singolo Beh allora Qui abbiamo solo lui Allora 20 No senti Vabbè prendiamo lui Che è abbastanza buono Vai Ok qui abbiamo i due viola Questo fa 200 Abbiamo lei che fa 240 Fanno io stesso Lo probabilmente sarà Qualcosa in più Ok E mettiamo lei Aspetta qui invece Non possiamo ancora mettere nulla Qui invece Abbiamo sbloccato qualcosa Sì abbiamo questo viola Perfetto No Perché non ci fa cambiare Io voglio mettere lui Magino che non abbia abbastanza potenza Vabbè Va bene Possiamo andare avanti Immagino di sì Ok Cosa ci fa Ah possiamo potenziarli Ottimo Veramente veramente ottimo Questo adesso è tutto un Che abbiamo finito i punti Forse ho esagerato un po' Qui che si fa Ah immagino che io l'abbia già equipaggiato Perfetto Vai potenzia Abbiamo le skill Possiamo potenziarlo Immagino E diventa di livello 2 Ottimo Lui pure No Però possiamo potenziarlo Perché va a soldi Perfetto Qui invece Che abbiamo Non abbiamo queste cose Quindi possiamo anche Non utilizzarle Eh aspetta Impostazioni Qua Cos'è Eh zio non so Che cazzo sia quello Quindi non ti saprei Minimamente dire Che cacchio dovrei fare Magari Scrivete Scrivete Me lo puoi Nei commenti Non so Minimamente Che cazzo fare E qua cos'è Ah ok Qui è praticamente Lo faremo dopo Faremo alla fine Qui invece è lo shop Perfetto Abbiamo le carte Adesso ci si sono sbloccate Non ci ha mai stato droppato Quello Va bene Va bene Abbiamo sbloccato qualcosa qui Però voglio andare avanti Basta Basta signori Let's go Facciamo questa prima cosa Andiamo sempre Facciamo la missione principale E poi dopo Vediamo cos'altro fare Oh no Oh no È un po' troppo alto La mia voce Salve signori Cos'è che devo far Dimmi che si è iniziato A fare il primo boss La cavalcatura Posso cavalcarlo Immagino Ok un po' bruttino Un po' bugato Perché tipo Lui Ah no 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 È seduto Vabbè Mi stavo portando Da un'altra parte Bastardo Non volevi farmi Non volevi farmi Andare a battere il boss Me ne ricorderò Me ne ricorderò Ok questo è il gate Per il boss Lo scopriremo Adesso signori Ok Ok Aspetta Devo entrarci Mi scusi Ah possiamo Oh E allora mettiamo Tutti e due Se ci aiutano Non possiamo Va bene Vada con Sachi Dai Aspettiamo Signori Molto probabilmente Il nostro primo dungeon Quindi il nostro primo boss Speriamo bene 20 minuti signori Incredibile Andiamo alla Rish Coast Vai Sponna tutto Sì Livello 15 Secondo me dovevo Allenarmi un po' di più Molto probabilmente Vai Sono tutti miei Tutti miei Non si capisce un cazzo Il nostro primo boss Via Questo è il mini boss Immagino Aia Mi scusi C'è un po' di Blade Grazie 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 Salve signorino Venga qui Perfetto Immagino possiamo andare avanti Andiamo Andiamo miei prodi Vai cazzo Vado Vai Mischia Sponna tutto Poi è un po' un problema Non sentire L'audio Perché appunto Non ho le cuffie Perché se mi metto le cuffie Poi è finita Uno urlo come se non ci fossero domani Due Capisco più Cazzo Ecco C'è sempre e costantemente Quel problema Della webcam E sto registrando Sì sì Vai perfetto Vai così Ecco Diciamo che c'è un piccolo Oh drop Vai Quindi praticamente Prima di poter Dai C'è un cazzo Di sassetto Ci stavo 0 di 4 E 0 di 5 In che senso Ok Ah immagino siano i mob da uccidere Ok Per poter andare avanti 3 su 3 Cosa 3 su 3 Ti ho dato Salve Tu sei mio No tu sei mio Credo che non ci sia la classe heal Però effettivamente Cosa cazzo è Scusami eh Ma volevo desistere Ah ma 99 pozze Ma allora Mi sa che lei casca un po' male eh Senta io sto colpendo C'è un piccolo problema di sorta Qui non va Vai Che cazzo Vai Utilizzalo No Rip Ma allora Mi scusi Ma è come se non prendesse danno da me Ma lo sa che è maleducazione È proprio maleducazione una cosa simile Cioè lei come minimo deve prendere danno Anche da me Che cazzo fai Abbiamo un po' una pozza Thank you Vai Mamma mia Quanto poco danno faccio io Quanto poco danno faccio Salve signori Andiamo avanti Andiamo avanti Bello lui Ma quindi stiamo riaffrontando pure i mini boss Quindi è tipo un Vedi che non gli faccio un cazzo Perché laggo No 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 problema problema Ecco Ok No 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 Ehi là Cosa vuole fare lei Questo Sa che è un problema Sa che non può Ehi 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 Ma perché sto al tredicesimo A tredici punti ferita Ma dai Beh io devo usare sto coso Si è repullato Ma veramente No 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 Che cazzo fai Ma perché vai dentro Ma dai Seriamente Cioè è andato dentro proprio E piglia danno nonostante io stia da dietro Ok Gioco qui c'è un piccolo problema Ehi ehi Un'altra volta Un'altra volta con poco Poca vita Ok Ok Va bene Andiamo avanti Madonna mia me lo sono messo troppo davanti Oh no Ma vedi che c'è Non è neanche il Che che Non ho capito È un dungeon così allora Non è il piano Il boss del fine Primo piano Magari un'altra pozzetta Ma la vediamo eh No 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 Eh vabbè mi colpisce lo stesso Io esco Io disingaggio E mi colpì Vabbè ma mi colpisce sempre Cazzo Mi colpisce di nuovo Non stavo nel suo raggio Ehi ehi Via 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 Niente Mi colpisce lo stesso Veramente Mi sono rotto un po' i coglioni Però così eh Cioè se mi devi colpire Ehi ehi Ucciso Morto Balliamo Boss terminato Andiamo Let's go Let's go Abbiamo fatto questo boss Quindi ci sta Siamo molto deboli Quindi prendiamo anche qui Ci manca l'ultima cosa da fare Poi abbiamo finito Tutti gli achievement Di questo piano Io immagino Piamo anche questa roba qui Ci da soldi E potere Illimitato In un minuscolo spazio vitale E si continua Ad andare avanti Lì Corriamo più veloce Del cavallo Non si sa come Però va bene Va bene così Andiamo Qui sono andato Ah ok Immagino che quindi Adesso Dobbiamo fare il boss Non lo so Perché se dobbiamo fare adesso Il boss Mi faccio Prima un po' di Arm Adesso Vai Bono Ah quindi si trovano anche gli scrigni Perfetto Off camera poi Andrò avanti un pochettino Farmerò un po' Così non devo fermare in video E le situazioni si calmano così Però che palle Andrò avanti indietro Mamma mia Let's go Non so cosa stia scritto Vorrei tanto capirlo Sapete Ogni tanto Un E poi non si capisce più Cazzo Ok abbiamo finito Andiamo avanti dai Voglio Voglio vedere cosa mi porta alla prima missione Mamma mia Cioè ormai Ho combattuto pochissimo Ed è solo avanti e indietro Avanti e indietro Forse Forse oggi si fa il boss Forse oggi si batte Killfang Killfang I re dei koboldi Andiamo Dai Sono molto contento Se si va a fare il fang E qui ci sono pure i koboldi Quindi Non vedo Non vedo Uffa Non vedo il pilastrone Non c'è il pilastrone Se realmente non c'è il pilastro Enorme Che ti fa capire Che lì Un cazzi amare Ma no Ma così non va bene Cioè no veramente Spero di no Cosa sono quelle palle di fuoco Scusatemi Oddio Ok Quindi è Ma già c'è pure la mappa Sei serio Ma così è bruttissimo però E se c'è pure la mappa No aspetta Due secondi Ok no Ok quindi dritto Dritto Vabbè Noi utilizziamo Quindi dritto per due volte Qui ci sono le trappole Fai di nuovo dritto Però prima dobbiamo battere questi Speriamo Sperando che siano di livello No sono di livello 15 Ok Tranquilli Vai vai Aspirapolvere tonante Bobo Bobo Dai Perfetto Vieni qui signorino Che Non mi Ma spawnano sempre No Cioè arriva No spawnano sempre Perfetto Noi ce ne andiamo allora Disingaggiamo Salve Però no Che cazzo fai Vai via 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 Sono un idiota Sono un idiota Soltanto per il fatto che Uno mi sto buttando in mezzo alla mischia Come veramente Allora Perfetto Poi devo girare di così Ehi porco giuda Mi lasciate andare per favore Perfetto Lì cosa ci sta Io voglio Voglio esplorare il boss Il dungeon No 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 Vai Di che c'è È una stanza viola E c'è Un mini boss Probabile che sia un mini boss Non lo saprei Sì Perché è di ventesimo livello E potrebbe farmi veramente tanto male Fisico Quindi potrebbe essere un pochettino un problema Che cazzo Ma dai Ma dai Via 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 Questo Questo è un problema E ma se pure il fang è di livello 20 Qua No Aiuto Aiuto Ma sto prendendo danno a cazzo Se sei veramente Ma quello Ma scusami Andiamo avanti Fanculo Non devo andare dritto Ok Grazie Grazie Arrivederci Cos'è sto pilastrone di fuoco Ok Sto andando nel verso giusto Nel caso off camera Mi esploro un po' di più Aia Ma non mi ha mai preso Però dai Ma ma sono questi Togliti Cazzo sto bruciando Ma non è vero Via Via Ah Quindi fallo Un po' come in Dark Souls Ok È crollato qualcosa Non voglio vedere No Grazie Salve Venite qui che vi faccio Vi faccio vedere un pochettino L'aspirapolvere La nuova aspirapolvere Dyson Come è buona Ci sono i funghi Praticamente sempre Roba che abbiamo già affrontato Allora in realtà Se sono così Con una buona connessione Si riesce E non è tanto il problema Della connessione Perché io tanto sto con il cellulare Il problema è principalmente quello Andiamo dai il fung Sti cazzi Oh oh Perfetto Possiamo schippare questa parte Perché Sarebbe soltanto dialoghi Che non capirei Andiamo Dopo questa Stacchiamo Mamma mia che caldo Quasi un'ora Ma come non combattiamo Oh 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 Non farmi incazzare Salve Salve Si inizia signori Si inizia Ok Avanziamo Avanziamo Il fung Però tu non è che Il fung Mi perdoni Signori il fung Ma lei La sa Come si funziona qui Allora Lei adesso deve stare fermo E io Cercherò di farle Tante piccole coccole In modo tale No il fung Allora Non ci siamo capiti Già a metà Che tra l'altro Quell'ascia Mamma mia La grafica fa cagare La grafica delle animazioni Fa veramente cagare Però mi rendo conto Che è comunque Un gioco per cellulari E quindi che abbia Un determinato Una determinata potenza Non può avere Cose un po' troppo dettagliate Però Parte Parte quelle animazioni Che ovviamente No 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 Aspetta 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 4 3 2 1 Muoviti 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 Via cazzo Il fung Tacci tua Il fung Devi morire Il fung Ti stai fermo Dai Porco giuda porco giuda porco giuda No 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 Come di nuovo il fuoco Come di nuovo il fuoco Porca di quella puttana Porca di quella puttana Porca 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 Lasciamo perdere va Questa è anche Questa è maggiormente colpa Della connessione Che non Non registra i colpi Registra solo i danni Da quando ho capito In realtà il colpo di grazia L'ho dato io Hai rubato la kill Kirito Molto triste Però abbiamo ucciso il fung Quindi un piano in meno Perfetto Congratulation Bonus item E mo? Si va a sbloccare il piano? Con chi devo parlare? Mi scusi Ah tu non eri morto E quindi? Che devo fare? Lui non mi... Ok adesso Devo parlare con lui? Ok Con Egil no Tu sei ancora vivo Oh Finalmente Finalmente Mamma mia Si era buggato tutto Che palle Ancora? Abbiamo appena finito di parlare Quanto vuoi parlare In questo gioco? Mi perdoni Egil Ciao amore mio Ma poi Perché è ancora vivo? Oh Non è che mi dispiace Cioè nel senso Non voglio che muoia Però Si basta Grazie Perfetto Abbiamo completato il nostro primo piano Questa è la gigantografia È il primo E signore e signori Possiamo accedere al secondo Magico che adesso Ci teletrasporterà al secondo E ci saranno anche I saluti finali Quindi Qui c'è un falò Quindi ragazzi Io spero che vi sia piaciuto Questo terzo episodio Di Sword Art Online Black Swordman Noi ci rivediamo Ad un prossimo video Di Sword Art Online Black Swordman Oppure qualcos'altro Che uscirà Molto probabilmente Su questo canale Per cui The Binding of Isaac Oppure altri tantissimi video Che ho in mente Di portarvi Anche Minecraft In realtà Quindi Noi ci vediamo Ad un prossimo video E niente Alla prossima